Stavo guardando un film su Netflix dove tutti i protagonisti vivono bendati. E allora mi sono chiesto, ma come sarebbe la mia vita se vivessi in questo modo? Dovrei comunque andare in moto. Mi sono informato e da mille esperimenti sembra praticamente una cosa impossibile. Decido quindi di contattare uno degli influencer non vedenti più famosi di tutta Italia. Ha da poco avuto un bambino con sua moglie, anche lei non vedente. Ed è diventato famoso grazie anche alla sua ironia. Come faccio ad orientarmi? Eh amici di videocecato, nelle città che conosco a memoria, io vado in giro a bocchi chiusi perché le conosco proprio bene. E dopo neanche mezz'ora mi ha risposto. A livello di equilibrio di andare è fattibilissimo. Ho provato anche in macchina, ho segnato a fine in terza. E io sarei uno che lo farei come esperienza. Esatto. Ok, loro non mi dicono niente quindi vuol dire che sto andando dritto. Non vedere può portare anche da superare dei limiti e che non è detto che una persona che non vede non possa essere in grado di guidare una macchina o una moto che poi non lo possa fare. È un altro discorso. Certo. Poterlo fare in quanto è il non saperlo fare. Esatto, certo. C'è un problema di diversi. Cioè io so guidare la macchina, non lo posso fare, però lo so guidare. C'è tanta ignoranza perché attivamente più se ne parla più sarebbe utile per la gente e fargli capire determinate cose. Noi stiamo in piedi grazie al nostro sistema vestigolare. È un sistema che si trova dentro alle nostre orecchie, fornisce il principale contributo al nostro senso di equilibrio e anche al nostro sistema di orientamento. Anche i MidBuster ci hanno provato e hanno scoperto che le persone non riescono neanche a camminare in linea retta... In linea retta. Che le persone non riescono neanche a camminare in linea retta ad occhi chiusi. Beh, quindi proviamoci subito. Siamo in un aeroporto, lo vedete? Proviamo ad andare dritti e per vedere se riesco a camminare appunto in linea retta usiamo la Insta360 attaccato a un palo che fa l'effetto drone. Ok, i MidBuster avevano ragione. Questo è un problema perché se devo andare in moto... Pensi che vai davvero dove faccela? Sì, proviamo. Eric Wenemeyer è stato il primo alpinista non vedente a raggiungere la vetta del Everest. Sono 8.848 metri. A quella quota volano gli aerei di lì. Una delle cose che aiutano di più i non vedenti ad orientarsi è l'udito. Alcuni riescono a sviluppare come i pipistrelli degli eco radar. Daniel Kisk infatti è conosciuto come il vero uomo pipistrello, il vero Batman, perché ha inventato un metodo per orientarsi. Ed è un esempio di come tante persone hanno usato una loro disabilità con una loro forza. Schioccando la lingua tre volte così riesce a sentire le vibrazioni di quello che ha davanti. È incredibile questa cosa. I MidBuster hanno anche fatto vedere che non si può notare in linea retta. Continui a girare in tondo. Continui a girare in tondo e non tenerli conto. Però adesso voglio provarlo con la mia pelle. Ma in realtà ci sono riuscito, anche se ho fatto due metri perché mi fa paurissimo. Adesso vediamo però se riesco ad andare in moto, che è tutta un'altra storia. E in moto come faccio a mantenere l'equilibrio? Il sistema è composto dai canali circolari che indicano i movimenti di rotazione, in che modo ruotea il nostro corpo. E gli otoliti che indicano le accelerazioni ed è proprio questo il vero problema. Noi agiamo alle accelerazioni, non alle forze continue. Avete mai notato che in aereo o ad esempio in treno non ci dà fastidio alla velocità? Quando è che ci dà fastidio? Sulle montagne russe, perché subiamo un'accelerazione. E che infatti poi è il problema della realtà virtuale, perché tu più di un tot non riesci ad avere il visore addosso. Quando nel gioco ci sono delle accelerazioni. Formula 1 ti fa venire il vomito. Noi siamo fermi perché siamo seduti a casa, ma la nostra vista ci fa vedere che ci stiamo muovendo. Perché ci viene da vomitare? Perché il nostro cervello e il nostro corpo sono superintelligenti e pensano che siamo stati avvelenati. Allo stesso tempo il visore lo potete usare alla scrivania, come ci fa vedere gli achidale. Perché lì non ti dà fastidio. L'ambiente è fermo. Le nostre orecchie percepiscono che siamo fermi e quindi non crea alcun tipo di problema. Io in moto ho il rumore del motore, che teoricamente mi dovrebbe completamente disorientare. Ma tu vuoi fare un video di da me vendata? Sì. No, ora che fai... È arrivato il momento della verità. Per sicurezza io sarò collegato con i miei amici qui nell'interfono, quindi io li sentirò. E mi diranno ovviamente se mi sto andando a scantare la resta o la sinistra. Qui abbiamo un rettilineo enorme, quindi tendenzialmente la moto per inerzia dovrebbe andare avanti. Però in realtà non so, perché come avete visto sia a nuoto sia a piedi tendenzialmente non riesci mai a seguire una linea dritta. Così teoricamente, guardate, io sono dritto. Che cosa bella che si può girare la videocamera con la 360. In realtà hanno fatto anche un film in cui Nerve si chiama. C'è il protagonista che guida una moto con la visita completamente oscurata. Effettivamente facciamo come i beatbuster, quindi vediamo se questa cosa è plausibile oppure no. È arrivato il momento di andare in moto. Mamma che sana ansietta, ragazze, me la sto facendo addosso. Che sono vestito con tutte le protezioni del caso. Proviamo! Ok, loro non mi dicono niente, quindi vuol dire che sto andando dritto. Ho passato gli altri ragazzi? Sì, sì. Ok, dai, sono andato a destra, ma neanche tantissimo. Torniamo dagli altri e vediamo di fare le cose un po' più complesse. E a proposito di guardare il mondo con un'altra prospettiva, non posso far altro che parlarvi di queste, raga. Sono le nuove videocamere della Insta360, questa è la X3. Ti permetti di aumentare il nostro campo visivo e di vedere di più. Perché siamo sempre stati abituati a vedere il mondo, con le solite inquadrature, strette, chiuse, delimitate da un obiettivo fisso. Tipo se io zoomo, o così, o così. Con la Insta360 invece potete vedere tutto il mondo attorno a voi ed è una rivoluzione incredibile per il videomaking. Io la uso tutti i giorni, quando vado in moto possiamo pensare in modo diverso, davvero fuori dagli schemi, perché si possono fare inquadrature mai viste. Come potete vedere questo è il kit moto, la monti qui e questo viene nascosto. È un bastone che praticamente viene reso invisibile ed è super comodo, soprattutto per un discorso di sicurezza. Nel caso mai vi dovesse succedere qualcosa, la Insta è sempre lì che riprende. Ha un'autonomia indecenti, raga, vi giuro. Il giro dura due ore, lei c'è, sempre rimane carica e registra tutto. E sostanzialmente vi libera la testa, perché voi non dovete avere il pensiero di mettere la videocamera nel modo giusto. Voi la posizionate e poi ci pensate dopo. Quindi raga, mi raccomando, andate qua sotto al link per vedere quanto costa, informarvi, perché questo qua è un must have. Tra un po' si avvicinerà anche Natale, un sacco di occasioni, è perfetta per un regalo di compleanno o comunque per un discorso di sicurezza. Quindi andate qua sotto, avete un mio codice sconto. Ci vediamo sul sito di Insta, ciao. Devo attraversare loro, fare uno slalom. La sicurezza non è mai troppa, ho anche un airbag addosso. Quindi vi giuro, vi prego, per strada, con gli occhi aperti e guidate come se fosse trasparenti. Perché lì sono gli altri che non vedono voi. Avanti, avanti, diritto, ti amo. Destra, 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 destra. Vai a sinistra, vai a sinistra, fermati, fermati, fermati. Sinistra? Sì, 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 sì. Fermati. Carissimo! Ci sono riuscito, sono troppo contento. Grande! Hai visto che era fattibile? Era fattibile, avevi ragione, avevi ragione. Si può, si può, si può separare tutto. È bello, se si può approfondire un discorso che magari uno pensa che non è fattibile, quando invece poi in realtà si scopre che si può fare. Ci sono guide, diciamo, navigatori, che si prestano per far fare delle esperienze in macchina ai non vedenti. Quindi praticamente si mettono al posto del passeggero, non vedente, guida, e li fanno fare una specie di circuito. Ed è bellissimo, gioca a calcio dall'età di 15 anni. E definitivamente, quando uno pensa che le cose nella vita non si possono fare se non hai la vista, o hai una disabilità, ecco il calcio. È uno di quegli esempi che in realtà ti fa capire quanto a volte uno sport ha batte le barriere, no? Certo. Che basta una pala solo, non vorrei dire. Che bello! E infatti il video lo vorrei concludere con un invito. Potremmo fare un video insieme, una persona non vedente può guidare una macchina. Vabbè, scusate, è un video, è un finale che spacca. Qualcosa che sicuramente io non vedo l'ora di fare, vedo che ti dico io. Io sono di Bari, però vivo in Liguria. Ah, vabbè, no, ma allora siamo vicinissimi, io a Milano. Ah, ma allora che fa, ovvio in Milano. Così vengo anche in Harley, ti porto dietro sulla moto. Sì, è il mio sogno, bellissimo. Bellissimo. Dai, dai, allora volentieri. Ti aspetto qua. Ciao, bello. Che bello, raga. Quindi iscrivetevi al canale perché con lui faremo un sacco di contenuti interessanti. E vediamo se si riesce a far guidare la macchina, se lo stiamo.